E' abbastanza chiaro adesso che ciò che poteva sembrare un certo tipo di controcultura è, in realtà, solo il semplice vecchio caos di indifferenziata bizzarria. Dire cose radicali, una forma conservatrice, è controcultura. Buonasera e benvenuti ad una nuova esaltante puntata di controcultura. Beh, chiaramente sono il vostro Federico Maniche, in arte ciuchino maraschino che vi parla. Mattia Bellecchi in arte è Jack Lamotta. Un po' più grippe in arte nessuno. Ragazzi, oggi parliamo di una città capitale, probabilmente una delle capitali più belle del mondo, se non la più bella, però noi siamo italiani quindi non facciamo testo. Mattia, tu ci hai vissuto per otto anni? Sì, parliamo della città di Roma e parleremo della città eterna attraverso un film che mi ha colpito in modo particolare. Posso indovinare la grande bellezza? Esatto, ragazzi, Sorrentino, premio Oscar, insomma, dopo tanti anni, dopo la vita è bella, di nuovo sfondiamo in quel di Hollywood. A questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta, la fessa. Io, invece, rispondevo, l'odore delle case dei vecchi. La domanda era, che cosa ti piace di più veramente nella vita? Ero destinato alla sensibilità? Ero destinato a diventare uno scrittore? Ero destinato a diventare Jeff Gambardella? Ragazzi, insomma, se qualcuno di voi non avesse visto il film, stiamo per fare degli spoiler. Attenzione, girate canale! Se invece volete sapere di più, chiaramente il nostro Jeff Gambardella, un rampante rampollo napoletano, si trasferisce a Roma e inizia a far fortuna grazie al proprio libro L'apparato umano. E io con molta gratitudine vi starò ad ascoltare perché purtroppo non posso farci niente. Il film me lo sono perso, mi ripermetto di rivederlo al più presto. Però a questo punto la mia curiosità si fa sempre più vivida. Vai avanti, Jeff, per favore. Jeff Gambardella, dopo aver scritto L'apparato umano, non ha più scritto altri libri. Non solo per la sua pigrizia, ma soprattutto per un blocco creativo da cui non riesce ad uscire. Col tempo lo scopo della sua esistenza è diventato quello di trasformarsi in un mondano. Ma non un mondano qualunque, bensì il re dei mondani, come lui stesso confessa. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che potrebbe essere definito il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. E ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. E insomma, il nostro Jeff Gambardella finisce in questi salotti insipidi dove non si parla di nulla. E varie scene, chiaramente, accompagnano l'intervento, l'apparizione di vari personaggi, tra cui Verdone, Laferilli, insomma, di tutto e di più, in un cast fantasmagorico. Noi ve lo consigliamo, ragazzi. Mi sembra di aver capito che il tema principale fosse, in questo film, la vanità e il pericolo della vanità. Vanità, apparenza, insomma, Mattia. E di questo ne parleremo nella seconda parte di Controcultura. Non abbandonateci. È la tua libertà, è controcultura. Dire cose radicali, in forma conservatrice, è controcultura. Ambar l'amore comincia tu. Per noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A far l'amore cominci a tutti. Grazie 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 a tutti. Jack. Perché? Grazie a tutti. 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 All'indomani una serata che però potesse dare qualche cosa. E invece questa cosa non la dava mai. Vi posso riassumere il film in tre scene che mi hanno colpito in modo particolare. Beh, Jack, non tenerci sulle spine. Prima scena quando lui va ad una specie di mostra di un artista che si è fotografato in ogni giorno della sua vita. Quindi c'è questa mostra, ci sono queste enormi pareti su cui ci sono affisse tutte le fotografie di questo artista giorno per giorno, da quando è nato fino al giorno della mostra. Beh, che poi questa cosa credo che sia diventata nei social anche un trend e non è storia sconosciuta. Molti si fotografano quotidianamente o addirittura in maniera più semplice le famose pance delle donne incinte che crescono fotografate giorno per giorno. La seconda immagine, Jack? La seconda immagine è quando lui, dopo una di queste solite feste mondane, chiama il custode delle varie residenze, case e nobiliari, che praticamente dispone di tutte le chiavi appunto per accedere a queste proprietà. E lui, con il personaggio interpretato da Sabrina Ferilli, va in giro per Roma di notte e vede tutta questa appunto grande bellezza, questa eredità lasciata dalla millenaria storia di Roma. Si percepisce anche la profonda decadenza. Arriva ad un certo punto in una sala in cui a lume di candela ci sono queste ricche vecchie che giocano a bridge, a carte, incuranti di tutte le proprietà che hanno, come se avessero perso proprio la percezione della vita, il contatto con la vita reale, la vita moderna. E la terza immagine, Jack? Ma soprattutto, ti rivedi in qualcuno dei personaggi di Sorrentino? Ti dico prima la terza scena e poi ti dico in quale personaggio mi rivedo. La terza scena è proprio appunto eclatante, salotto mondano, si parla del più e del meno, ci sta una delle amiche di Jeff, la tipica sessantottina, che si fa sviolinate sulla sua vita. Poi Jeff, scocciato la smaschera, le fa capire che la sua vita è tutta fallimentare. Questo personaggio rappresenta proprio la classe politica e dirigente dell'Italia odirna, ovvero gli ex sessantottini che erano dei contestatori all'epoca, ma che sono diventati come coloro che contestavano e che non lasciano spazio ai giovani di oggi. Infatti lei inizia il discorso parlando in maniera dispregiativa dei giovani di oggi che non hanno voglia di far niente e che se ne vadano all'estero. Tristissimo questo, io nel 68 c'ero, avevo 18 anni e ho verificato poi nel tempo che questi, come li hai definiti tu, sessantottini, una volta erano dei grandi comunistoni, dei grandi socialisti, avevano aspirazioni sul sociale, avevano tantissime idee e poi alla fine sono diventati dei borghesi arricchiti che additano coloro che ancora adesso credono nelle vecchie idee del 68. Jack, e per concludere la nostra puntata raccontaci in chi ti rivedi, insomma. C'è qualche personaggio che potrebbe essere il Jack Lamotta e il Mattia Pellecchia della situazione? Quando ho visto il film l'ho visto in un momento particolare della mia esperienza romana che stava quasi per finire e io mi rivedo molto nel personaggio di Verdone, romano, che dopo aver provato a sfondare a Roma decide poi di abbandonare tutto e ritornare al suo paese. Ragazzi, per sapere di più della vita di Mattia Pellecchia seguitelo su Facebook, canale Jack Lamotta, io sono Federico Manica in arte e Ciuchino Maraschino, io sono Mattia Pellecchia in arte e Jack Lamotta, e io sono Poppy Grippa che corre a procurarsi il film. Ragazzi, champagnino. Dire cose radicali in forma conservatrice e controcultura Mi manchi tu La fantasia Il cinema L'estate indiana Mi servi tu Un brivido Il ghiaccio nel Campari soda Fumo un'altra sigaretta Perché è facile buttarsi via Respiro e scrivo Tutto quello che mi manca È un'assurda specie di preghiera Che sembra quasi amore Ti angilo ma muori amore Sprendi il sole da far male Ho sciaffato le varie Ma rimango ad aspettare Righi Roma Vivi amore Dice il telegiornale Che la fine si avvicina Io mi invento un gran finale Mi manchi tu Mi manchi tu La libertà Tanti LP Battisti e Mina Mi servi tu La malattia La malattia Che spazza via La razza umana Chiudo con le sigarette Un ragazzo in strada Un ragazzo in strada In strada scappa via E metto in lista Tutto quello che mi manca E mi sembra quasi una preghiera Oppure folle amore Piangi Roma Muori amore Tutto il bene Che salta è Come il sasso e la fontana Si consuma Si consuma Si consuma Ridi Roma Godi amore Nonostante il temporale Metto i panni ad asciugare Piangi Roma Piangi Roma Chi fa bene